11 donne, 18 minori, 2 neonati e 7 uomini. Sono in tutto 38 i migranti provenienti dal Nord Africa che la nave Aita Mari dell'Organizzazione Non Governativa Basca Salvamento Maritimo Umanitario ha tratto in salvo nelle acque del Mediterraneo. Per loro sarà Ortona il porto sicuro in cui finalmente potranno attraccare e toccare in fine terra, così come comunicato ieri dal Ministero dell'Interno alla Prefettura di Chieti che ha immediatamente provveduto a riunire il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per l'Abruzzo, già in altre occasioni impegnato nell'accoglienza di profughi e migranti, quello dell'Aita Mari sarà il primo sbarco in un porto della Regione. Mario Della Cioppa, Prefetto di Chieti, allora quando è previsto esattamente l'arrivo dei migranti, il primo sbarco di migranti in Abruzzo? Ovviamente dipende anche dalle condizioni del mare, riteniamo nella giornata di venerdì, dal pomeriggio, forse anche in serata. Come è stata scelta Ortona? Sicuramente il porto di Ortona è un porto attrezzato per questo genere di sbarchi e quindi ritengo che nella distribuzione e rotazione di tutti quanti i porti anche Ortona abbia fatto la sua parte. E quando avete avuto questa comunicazione? L'abbiamo avuto ieri mattina, ci siamo messi subito in moto, nel pomeriggio abbiamo tenuto come consueto un comitato di ordine e sicurezza pubblica, però per la verità le devo dire che noi avevamo già allertato una procedura nelle settimane scorse ipotizzando una possibilità di sbarco nel porto di Ortona. I migranti, tutti sani e salvi, sono stati raggiunti dall'ONG Basca mentre navigavano su un mezzo di lamiera molto precario a largo di Lampedusa. L'Aita Mari, un'imbarcazione umanitaria di 32 metri dell'ONG Salvamento Maritimo Umanitario, è dunque attualmente in viaggio per raggiungere il porto assegnato dal Viminale, navigando lungo la rotta adriatica per approdare a Ortona, il cui porto si trova a 750 miglia nautiche dal punto in cui è avvenuto il salvataggio. Ieri abbiamo messo appunto il sistema di accoglienza proprio in base alle procedure che avevamo individuato nelle scorse settimane. Devo dire che sono molto soddisfatto della riunione di ieri perché tutti gli attori, gli enti coinvolti faranno la loro parte, li ho visti tutti pronti e preparati e quindi ci sarà un sistema di accoglienza adeguato per queste persone dopo tante giornate di navigazione. Quali sono gli enti coinvolti appunto in questa rete di accoglienza? Una per esempio è la ALS dove oggi io sono in visita, c'è la Croce Rossa, l'USMAF, la Capina di Porto, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, insomma una serie di soggetti, non vorrei poi dimenticarne qualcuno, come anche l'autorità portuale, una serie di enti come la Protezione Civile. Ognuno ha garantito la massima collaborazione e sono davvero soddisfatto perché questa mattina è in atto un sopralluogo del vice prefetto Braga che coordinerà per conto della prefettura di Chieti la sistema di accoglienza e quindi credo che non avremo grossi problemi. 38 migranti che saranno alloggiati dove? Siamo ancora in attesa ma rientra nella tempistica normale di individuazione dei centri di accoglienza e quindi fra oggi pomeriggio e domani la prefettura riceverà anche il piano di distribuzione. Ma sono pochi, sono 38 persone e in questo momento per quanto mi riguarda la prima cosa è quella di accoglierli. Ce ne saranno altri di sbarchi? Oggi noi abbiamo soltanto la comunicazione ufficiale di questo sbarco e attenderemo in base al piano di rotazione che il Ministero dell'Interno riterrà. Grazie a tutti.